Buonasera e bentrovati. La terza edizione della Tg6 apriamo con la cronaca. La procura di Teramo a lavoro sull'incendio che ha distrutto uno dei capannoni del consorzio dei rifiuti AM di Pineto. Il sostituto procuratore Stefano Giovagnoni, dopo il sopralluogo svoltosi questo pomeriggio, conferma l'ipotesi di incendio doloso. Dal sopralluogo all'interno dell'impianto di stoccaggio di rifiuti del consorzio AM di Pineto, distrutto dalle fiamme nella tarda serata di martedì scorso, si conferma l'ipotesi di incendio doloso. Sul posto i tecnici dei vigili del fuoco, i carabinieri e il sostituto procuratore Stefano Giovagnoni, il magistrato che ha aperto un fascicolo contro ignoti. Abbiamo visto il capannone, abbiamo fatto delle ipotesi, come si sia propagato, certo adesso è da vedere, stiamo facendo le indagini, vediamo se riusciamo a individuare anche i motivi di questo episodio che è molto grave. Pensiamo che sia doloso, ma oggi siamo riusciti a capire qualcosa di più. Le circostanze, le modalità e i tempi che hanno caratterizzato l'incendio infatti lasciano pensare che non si sia trattato di un incidente. Quando alle 22 circa di martedì scorso è divampato l'incendio, l'impianto di stoccaggio dei rifiuti era chiuso e non vi erano dipendenti al lavoro. Circa mezz'ora prima è scattato l'allarme a segnalare la presenza di un intruso nell'area del consorzio, intruso che avrebbe appiccato il rogo all'interno del capannone che raccoglie rifiuti secchi, carta e plastica per poi fuggire. Un'area di circa 2000 metri quadrati è stata distrutta dalle fiamme che hanno raggiunto in altezza anche la copertura del tetto, facendone crollare buona parte. Il magistrato, durante il sopralluogo, ha ascoltato anche il presidente del consorzio, che nella tarda serata di martedì riceveva tramite sms sul cellulare l'allarme che segnalava un intruso nell'area dell'AM. Intanto l'amministrazione comunale di Pineto è in attesa per la giornata di domani dei risultati delle analisi da Arta e Asl per valutare gli effetti dell'incendio sull'ambiente. Pescara sarà la città pilota per il piano alfano di requisizione delle seconde case degli italiani per metterci dentro i presunti profughi. Se è vera tale intenzione, siamo pronti a smontare il mondo per impedire una violazione dei legittimi diritti degli italiani è vergognoso e spudoratamente scandaloso. Lo denuncia il capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, spiegando che la notizia che è stata riportata oggi dai quotidiani, il giornale è l'opinione, due fonti autorevoli di informazione. Interviene poco dopo il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli che denuncia, che dichiara «fino al referendum dobbiamo aspettarci di tutto, ma la mega bufala delle seconde case da destinare agli immigrati a partire da Pescara è al limite della denuncia per procurato allarme. Siamo arrivati pure a questo, tanto sono deboli le ragioni del no». Infine il sindaco di Pescara, il Viminale, ha già smentito la notizia a cui alcuni organi di stampa hanno dato il crisma dell'ufficialità, pur avendola assunta da indiscrezioni di non meglio identificati dipendenti dell'interno. Questo a due settimane dal voto referendario è in un clima già reattivo e sensibile. Anche il Comune di Pescara evidenzia con forza come questi articoli non abbiano alcun fondamento nella realtà, stigmatizzando la diffusione di non notizie, meglio di bufale, che hanno il solo scopo di avvelenare l'aria. Gestione dei rifiuti in Abruzzo. Al centro della polemica, il Movimento 5 Stelle denuncia il rischio della costruzione di un impianto di incenerimento dei rifiuti nella nostra regione. Una battaglia a cui è stato dedicato un consiglio regionale straordinario in cui la regione Abruzzo si è impegnata a non realizzare alcun impianto sul territorio. Francesca Romana Testi. Un grande inganno lo chiama così il Movimento 5 Stelle il caso rifiuti in Abruzzo, ripercorrendo tutta la storia dal consiglio regionale straordinario svoltosi il 29 febbraio scorso, concluso con la volontà di gestire la materia rifiuti Abruzzo con il recupero e il trattamento, dal quale si sarebbero poi ottenute materie seconde FOS. Oggi invece i grillini presentano un quadro capovolto. È stata presentata una bozza di piano regionale di gestione dei rifiuti che prevede sia il recupero di materia e sia l'incenerimento. Per cui a parole ci dicono che non saranno previsti inceneritori nella nostra regione, nei fatti scelgono di incenerire. Inceneritori sul territorio, quelli che il sottosegretario Mazzocca aveva escluso categoricamente nel corso di diverse interviste sul tema, ipotizzando anche il trasporto nell'impianto del vicino Molise con un accordo tra regioni. L'idea nostra è quella di elaborare un protocollo d'intesa che quantomeno permetta di ospitare lì una quantità non infinita, né in termini quantitativi né per troppo tempo, di frazione organica nell'inceneritore, ripeto, già attivo ed esistente. I rischi sono di avere appunto degli impianti che i cittadini non vogliono e degli impianti che non soltanto non vogliono ma ci riportano indietro di 30 anni. Abbiamo tutte le conoscenze tecnologiche per evitare di incenerire, per spingere per la raccolta differenziata che farebbe abbassare anche le tariffe ai cittadini, dunque sia un vantaggio per la salute dei cittadini che per le tasche. Ed ancora è fondamentale che si realizzino quanto prima le bonifiche che si proceda nel contempo alla reindustrializzazione dell'area, azioni queste che devono avvenire nel pieno rispetto della legalità, nella trasparenza e con la partecipazione delle comunità locali. Posso assicurare che la Commissione vigilerà con estrema attenzione, continuando a seguire da vicino la vicenda di Bussi. Lo afferma il Presidente della Commissione Ecomafie, Alessandro Bratti, facendo presente che il convegno sul sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, organizzato dalla stessa Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti previsto per il 25 di novembre, sarà rinviato per via della concomitante discussione sulla legge di bilancio in Parlamento. Bratti osserva però che è un appuntamento solo rimandato. I cittadini di Bussi devono conoscere i risultati dei lavori che hanno approfondito la storia della contaminazione e lo stato attuale degli interventi. Abusava della figlia da quando la piccola aveva 5 anni e l'aveva filmata in diversi video amatoriali. Inchiesta shock della Polizia di L'Aquila che ha arrestato un pedofilo che per lungo periodo ha vissuto nel capoluogo di Regione. Daniela Rosone. Quando l'orco si nasconde in casa, abusava della figlia da quando aveva 5 anni e mentre aveva rapporti con lei addirittura la filmava. L'indagine ha preso avvio da una vicenda che riguardava una truffa per la vendita di un telefonino compiuta dall'uomo nei confronti di una minorenne, quando per un lungo periodo è stato residente all'Aquila dove impartiva anche ripetizioni private a ragazzini. Non solo la vendita tarocca ma aveva anche tentato un approccio ravvicinato con la ragazzina stessa. Allora è scattata la denuncia e l'appostamento per l'uomo. Gli agenti lo hanno sorpreso in strada qualche giorno fa assieme alla figlia di 11 anni. Dentro un carrello per la spesa aveva messo un computer e DVD vari da gettare. Voleva disfarsi insomma delle prove. C'erano custodie di CD di Allochitti per nascondere invece il peggiore degli incubi. Un filmino terrificante, quello che hanno trovato gli agenti, la figlia dell'uomo, era ripresa in un video hard con il papà. Il tempo di affidare la piccola ai vicini e la polizia è entrata così nella casa del pedofilo. DVD oltre 500 pieni di immagini pornografiche, quasi 200 che ritraevano minori. Visionando poi e analizzando gli oltre 500 DVD con immagini pornografiche, di cui circa 200 con immagini minori, gli investigatori hanno scoperto che la protagonista principale di un filmato amatoriale era proprio la bambina. Tra le quattro mura domestiche era costretta a rapporti sessuali con il padre. La minore ora è stata affidata alla madre, separata dall'uomo da oltre 5 anni, mentre l'uomo è stato portato in regime di isolamento nel carcere di Regina Celi in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Una rapina è stata messa a segno questa mattina alle 6.30 a Villa Raspa di Spoltore nel Pescarese, presso una sala giochi di Viale Europa, dove due sconosciuti travisati ed armati di pistola hanno fatto eruzione nei locali e sotto la minaccia del revolver. Si sono fatti consegnare dai dipendenti 6.000 euro. I due rapinatori si sono poi dileguati a piedi facendo perdere le loro tracce. Non ci sono stati feriti, indagano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Pescara. Il re dei call center, Roberto Boggio, è stato arrestato a Milano dalla Guardia di Finanza in relazione all'inchiesta su una commessa per la Transcom che ha avuto sede all'Aquila sino al 2009. Il servizio. Ha fatto subito il giro dell'Aquila la notizia dell'arresto dell'imprenditore Roberto Boggio, titolare della società Transcom, ha considerato il re dei call center. L'ha arrestato la Guardia di Finanza a Milano per fatture false in relazione a subappalti con società del faccendiere Raffaele Pizza. I finanziari del nucleo speciale di polizia valutaria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare e domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma Giuseppina Guglielmi nell'ambito dell'inchiesta Labyrintho che portò nel luglio scorso all'arresto di 20 persone ritenuto coinvolte in un giro di corruzione in ministeri ed enti pubblici. La vicenda giudiziaria che ha portato Boggio ai domiciliari riguarda l'aggiudicazione da parte della società Transcom, in associazione temporanea di imprese, di un mega palto per la gestione del call center di IMSS INAIL dal 2010 al 2016, i cui costi secondo l'accusa sarebbero lievitati da 120 milioni a 450 milioni di euro. All'Aquila Transcom era presente fino al 2009, cioè fino al terremoto che ha colpito il capoluogo d'Abruzzo. Poi da Transcom la commessa che comprende anche IMSS INAIL nel sito aquilano è passata al consorzio lavorabile che ad oggi impiega oltre 500 persone con il 25% composto da lavoratori disabili. E proprio nell'ottica del salvataggio dei posti di lavoro della commessa che andrà di nuovo a gara nel 2017, più in generale della tutela del lavoro su tutto il territorio locale, è nata da poco l'associazione Lavoriamo per l'Aquila che conta già centinaia di aderenti e che chiede alla politica aquilana, regionale e nazionale, attenzione e impegno sul tema della corretta applicazione della clausola sociale introdotta dal nuovo codice degli appalti, prima dell'imminente emanazione del nuovo bando di gara relativo al Totat Center IMSS INAIL l'Equitalia. La corretta applicazione della norma, aveva scritto l'associazione, vuol dire prevedere nel nuovo bando di gara, anche in caso di successione di imprese, la piena tutela dell'occupazione degli attuali lavoratori, con il mantenimento degli attuali trattamenti contrattuali. Dati in calo per quanto riguarda gli incidenti nella nostra regione, anche se aumentano le vittime, nel 2015, secondo l'Istat, si sono registrati 3.217 sinistri che hanno avuto un costo sociale di 275 euro pro capite. Vediamo. Rispetto al 2014 diminuiscono sia gli incidenti che i feriti, ma il numero di vittime della strada aumenta del 9,1%. Nel 2015 si sono verificati in Abruzzo 3.217 incidenti stradali che hanno causato la morte di 84 persone e il ferimento di altre 4.827. La regione Abruzzo si posiziona tra quelle in cui il calo è stato inferiore alla media nazionale. Tra il 2001 e il 2015 le vittime della strada si sono ridotte del 50% contro il meno 51,7% della media nazionale. Il quadro emerge da uno studio effettuato dall'Istat. Fra il 2010 e il 2015 si registra un aumento del 6,3% dei sinistri a fronte di una diminuzione della media nazionale di meno 16,7%. Sempre fra il 2010 e il 2015 l'indice di mortalità sul territorio regionale è passato da 1,9 a 2,6 deceduti ogni 100 incidenti, quello medio nazionale da 1,9 a 2. In Abruzzo nel 2015 bambini, giovani e anziani deceduti in incidenti stradali sono meno rispetto alla media nazionale, 4,7% contro il 45,6%, con una differenza meno ampia per gli anziani. Il tasso di mortalità, infatti, è più alto in Abruzzo per gli ultra 64 anni. Negli ultimi 5 anni aumentano anche i pedoni deceduti, in Abruzzo da 12,7% a 15,5%. L'incidentalità rimane alta lungo la costa e nei comuni capoluogo di provincia. La pericolosità rimane alta lungo l'autostrada A25, la strada statale 650 a Fondovalle del Trigno, la strada statale 696 del Parco Sirente-Velino, la strada statale 690 a Vezzano-Sora. L'indice di mortalità cresce nei comuni di Chieti, L'Aquila e Teramo, mentre diminuisce nel comune di Pescara. Nel 2015 il maggior numero di incidenti si è verificato sulle strade urbane, provocando 34 morti, mentre rispetto all'anno precedente i sinistri diminuiscono del 5,6% sia in ambito urbano che sulle strade extraurbane e del 13,3% sulle autostrade. Gli incidenti più gravi però continuano ad avvenire sulle strade extraurbane, 5 decessi ogni 100 incidenti e sulle autostrade 4,5. Nel periodo primaverile ed estivo la concentrazione degli incidenti è più elevata in coincidenza con la maggiore mobilità legata a periodi di vacanza. Tra maggio e settembre si contano 1.577 incidenti, il 49% degli incidenti dell'anno, in cui hanno subito lesioni 2.356 persone, 48,8% e 32 sono decedute, il 38,1%. Nell'ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza o del semaforo, la velocità troppo elevata e la guida distratta sono le prime tre cause di incidente. Cambiamo argomento, donne delle istituzioni come Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato e il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, si sono ritrovate insieme questa mattina all'Università di Teramo per dibattere sugli ostacoli che ancora impediscono l'emancipazione femminile. Il convegno è stato organizzato dal Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell'Ateneo Teramano. Tania Bonici Castelli. Il nuovo Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell'Università di Teramo debutta con il convegno dal titolo Nella differenza ma oltre le differenze, un incontro che ha visto come protagoniste importanti donne delle istituzioni. Quali sono gli ostacoli che impediscono l'emancipazione delle donne? Soprattutto le giovani generazioni sono ragazze che si laureano prima e meglio dei ragazzi sono molto determinate, vorrebbero poter conciliare sia la vita di lavoro e professionale con le scelte di vita personale, quindi la maternità. In realtà noi abbiamo ancora molti ostacoli che impediscono alle ragazze e alle donne di essere autonome, libere e autodeterminate. L'ostacolo principale è che noi non investiamo esattamente su quei fattori che riguardano la maternità. Noi dobbiamo avere più consapevolezza che anche la genitorialità va condivisa, per esempio il governo e il Parlamento italiano di questa legislatura sta facendo molte cose per dire che la maternità ha un valore sociale, dire che la paternità ha un valore sociale e condividere la genitorialità è decisivo anche per le imprese che non devono spingere le donne, soprattutto quando scelgono di fare un figlio, di dire a questo punto non siete più produttivi, in qualche modo le spingono a restare a casa. Abbiamo confermato anche nella legge di bilancio di quest'anno la misura del voucher per le babysitter sia per le lavoratrici dipendenti sia per le lavoratrici autonome. Abbiamo confermato il congedo parentale obbligatorio anche per i papà di due giorni, a significare che la genitorialità è una responsabilità condivisa. Abbiamo inserito nuove misure importanti come il bonus per gli asili nido o misure anche di sostegno alla natalità come il bonus per i nuovi nati, il fondo di garanzia per le famiglie che hanno un nuovo bambino e quindi il governo è incamminato nella strada giusta, consapevole che misure di conciliazione sono fondamentali. Il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità è un nuovo organismo che l'Università di Teramo ha recentemente recepito e che si batte per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. In questo l'Ateneo Teramano è in prima linea. Anche l'Università di Teramo è andata oltre le differenze. Stiamo cercando di rinnovare questa università. Oltre le differenze significa valorizzare le differenze, significa riuscire a creare le condizioni perché ciascuno possa esprimere il meglio delle proprie potenzialità e possa perseguire al meglio le proprie aspirazioni. E contro il femminicidio e la violenza, contro il silenzio e la paura, pescare a scuole, istituzioni e associazioni si uniscono per diffondere un messaggio rivolto alle donne e alle future generazioni per farlo. Scelgono di mettere in scena uno spettacolo che finanzierà una casa di accoglienza per donne e bambini. Vediamo. Femminicidio, violenza, omertà, tantissime le risorse spese anche a livello nazionale per combattere un fenomeno tenuto sommerso per troppi anni. Non solo istituzioni in prima linea, ma grandissimo lavoro è quello svolto dalle associazioni e anche dalla scuola. Pescara mette in campo tre istituti scolastici, un'orchestra di fama internazionale, artisti del cinema e uno spettacolo pensato e studiato per far comprendere l'importante messaggio da diffondere fuori dalle case e dalle stanze che racchiudono quella violenza. Il messaggio più importante è che la scuola è in prima linea in questa grande battaglia di civiltà contro ogni forma di violenza, ma anche di prevaricazione di qualsiasi genere, anche di tipo psicologico nei confronti delle donne. I ragazzi delle nostre scuole stanno svolgendo da molto tempo dei percorsi di formazione e che sono volti ad affermare valori forti come il valore del rispetto reciproco, della comprensione e della valorizzazione delle differenze anche di genere. Ritengo che l'arte sia il mezzo per eccellenza per trasmettere questa sensibilità e per questo il Rosamara che noi replichiamo per la giornata contro la violenza sulle donne il giorno prima, il 24 novembre alle ore 21 al Teatro Massimo, parla di donne emigranti, donne di ieri italiane, della Sicilia, primi del Novecento e quelle di oggi dall'Eritrea che comunque nel loro lungo percorso di vicissitudini subiscono anche violenza. In questo caso, questo evento di Rosamara va a sostenere la costruzione della casa rifugio per la protezione delle donne che hanno il coraggio di denunciare questa violenza familiare da parte del centro antiviolenza anche. E a Pescara è stato eletto il consigliere straordinario deputato alle relazioni con gli stranieri regolarmente residenti nel capoluogo adriatico. Si tratta di Caterina Alerouche che oggi si è presentata alla cittadinanza. Vediamo. E' Caterina Alerouche la nuova consigliera aggiunta del comune di Pescara, ucraina di origine da 16 anni in Italia e già mediatrice culturale presso l'ospedale Spirito Santo. E' stata lei ad ottenere il maggior numero di voti nelle elezioni svolte il 29 ottobre scorso. 125 preferenze sui 470 votanti, tutti stranieri con regolare permesso di soggiorno in una comunità che conta in città 3531 persone. Da oggi il suo compito sarà quello di diventare intermediario istituzionale. Dobbiamo fare sì che tutti gli stranieri sappiano quali sono i doveri e i diritti di ognuno di loro perché l'informazione è molto importante. Io penso anche lavorando con tutti i consiglieri, collaborando con tutti il consiglio comunale di fare sì che i stranieri possano avere più informazione e più possibilità di agevolazione a tutto ciò che hanno bisogno. Una rappresentanza voluta dal comune di Pescara che riconosce come esigenza quella di operare sull'integrazione e la condivisione di diritti e doveri su tutto il territorio. Ora abbiamo sia un consigliere aggiunto che siederà nel seggio comunale e anche di una consulta di cittadini sempre stranieri che potranno relazionarsi col consigliere aggiunto che sarà il trade union tra loro e l'amministrazione. Di esigenze non rappresentate ovviamente ce ne sono tante e rappresentano tutte le problematiche che si pongono per l'immigrazione, per l'integrazione. Quindi ci sono tanti aspetti da valutare, anche dei problemi da risolvere e speriamo che in questo modo riusciremo ad essere più efficienti. Allarme in via Oberdan in centro storico a Teramo. In mattinata la strada è stata transennata dai vigili urbani da via Vezzola fino all'incrocio con piazza Martiri Pennesi. I vigili del fuoco hanno evacuato un palazzo, il Civico 33, che si trova di fronte alla sede dell'Inps. I residenti hanno evidenziato danni strutturali all'edificio che è stato sottoposto a verifiche da parte dei tecnici e in corso di valutazione la sua inagibilità. L'Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Teramo denuncia il pericolo della svendita in corso della Camera di Commercio di Teramo in favore di quella di L'Aquila. Il presidente dell'Api, Alfonso Marcozzi, accusa l'attuale giunta camerale di procedere alla fusione con l'Aquila e alla chiusura della sede teramana. Quest'ultima decisione penalizzerebbe tantissimo il tessuto imprenditoriale teramano. Ascoltiamolo. C'è una svendita in corso, quella della Camera di Commercio di Teramo, in favore dell'Aquila. È il grido d'allarme che l'Api, l'Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Teramo, lancia per denunciare la possibile perdita dell'ente camerale teramano. Fusione sì con il capoluogo aquilano, ma la sede unica non dovrà essere l'Aquila, dovrà restare in città. Purtroppo soggetti che stanno trattando questo passaggio di una istituzione importante sul territorio, fatto di risorse umane capaci, la stanno svendendo all'Aquila, nella maniera più biega che in questo momento possa io esprimere, perché sono veramente rammaricato di questo aspetto. Ma la cosa che dà fastidio è il fatto che questo passaggio avvenga proposto, venga proposto a soggetti non legittimati, perché sappiamo benissimo che all'interno dell'Aggiunta c'è qualcuno che per norma non ci può stare. Continuare a smembrare, a svilire questo territorio, un territorio ricco di realtà imbritoriari importanti, di capacità del turismo fondamentali, di maestranze e manovalanze importanti, mi riferisco soprattutto al mondo delle costruzioni, svenderci in un altro territorio dove ci hanno altre opportunità, mi sembra che sia veramente ridicolo. Ma lei ha una soluzione? Deve restare a Teramo, hanno altre opportunità all'Aquila, c'è la regione, e quindi hanno altri sbocchi, altre possibilità. Perché dobbiamo andare all'Aquila? La sede a Teramo c'è. All'Aquila oltretutto hanno speso soldi per costruirne un'altra, dopo che avevano investito i soldi per ristrutturare quella al centro storico, e ci sta tutto questo discorso, ma costruire un'altra a Bazzana approva. E per quale motivo? Quando a Teramo la sede c'è ed è funzionale, magari deve essere sistemata a fronte dei nuovi ventesismi, ma comunque c'è ed operativa. Quindi chiediamo, chiediamo, poniamo riflessioni, soprattutto al sistema al mondo imbrenditoriale, che forse non è al corrente di quello che succede all'interno della Camera di Commercio. Apriamo la pagina sportiva. Questa mattina, in occasione della visita agli stabilimenti della Saquella, main sponsor della squadra del Pescara, il presidente Sebastiani ha parlato del momento difficile della squadra, e intanto Campagnaro dovrà star fuori per almeno due settimane. Paolo Renzetti. Presidente Sebastiani, dopo la sconfitta con la Juventus, si pensa già alla gara di Roma, calendario che non regala partite sulla carta abbordabili al Pescara, resta però la fiducia della società in questa squadra, in questo tecnico? Assolutamente sì, ci mancherebbe. Non solo resta la fiducia, resta la consapevolezza che qui non ci sono partite facili. Non è che la Roma è difficile e poi il Cagliari è una passeggiata. Sono tutte partite difficili perché la Serie A è questa, e noi se ci vogliamo stare, vogliamo provare a rimanerci, dobbiamo metterci qualcosina in più, qualcosina in più in termini di impegno, in termini di cattiveria agonistica, perché probabilmente è quello che ci è mancato fino adesso. Abbiamo giocato delle bellissime partite, abbiamo raccolto molto meno di quello che meritavamo sul campo, a livello di complimenti penso che siamo la prima squadra nel campionato, a livello di punti non lo siamo. Dopo la partita con la Roma, quattro partite però da non sbagliare, con due scontri diretti in trasferta a Crotone e Palermo. Sì, sì, diciamo che sulla carta dovrebbe cominciare il campionato del Pescara. Abbiamo sbagliato qualcosa negli incontri precedenti e abbiamo raccolto qualche punto magari dove altri non l'hanno fatto. Non credo che qualcuno della società o anche tra il mister e i giocatori si fosse illuso di poter fare un campionato diverso. Noi sapevamo qual era la nostra strada quest'anno, che era una strada di sofferenza, di grande sofferenza, ma di grande sacrificio che devono fare i ragazzi, deve fare la società, deve fare il mister, devono fare tutti quelli che hanno a cuore le sorti del Pescara. L'ultima battuta, a bilancio tutto ok. Ieri c'è stata l'approvazione? Ma sì, a parte c'è stata l'approvazione, ma io credo che se una società lavora per il bene della società in primis e soprattutto una società che negli ultimi tre anni ha tolto dall'imbarazzo tutti i soci, vecchi e nuovi, perché tutti quanti noi avevamo delle firme presso le banche. Oggi non c'è più una firma presso le banche, penso che qualcuno mi debba dire grazie, non debba venire nemmeno a chiedere che cosa abbiamo fatto. In Lega Pro domani pomeriggio impegno per il Teramo negli ottavi di finale di Coppa Italia, al Bonolis arriva il Siena, per Nofri sarà opportunità di testare alcuni elementi che finora hanno giocato meno in campionato. davanti conferma per l'eroe di sabato sera l'attaccante diciottenne Alessandro Fratangelo. Nel servizio ascoltiamo l'allenatore del Teramo, Federico Nofri. È una competizione che dobbiamo onorare al meglio perché la società ci viene particolarmente, ma anche i giocatori, il sottoscritto. Chiaro che in eventuale vettoria ci proietterebbe ai quarti di finale, eventualmente nel mese di febbraio, dunque dobbiamo cercare di onorare il più possibile cercando di passare il turno questa manifestazione che permette anche a chi ha meno spazio durante il campionato di farsi vedere, di mettere in difficoltà le scelte future. Beh, Carraro sicuramente sarà un giocatore della partita, poi Jefferson no, perché ancora andiamo caviti su quello che è il suo recupero che sta terminando, quindi da giovedì si rimette quel gruppo, dunque è disponibile per Reggio Emilia, però per la partita di Coppa Italia lo teniamo a riposo. La Coppa Italia, ripeto, le partite vanno comunque sia giocate, voglio dire, Manganelli nella Coppa Italia fece una buona partita, poi si è fatto e trova pronto e quindi è stato inserito nel contesto della gara con l'Ancona, ma questo è un esempio, ma potrebbero succedere anche altre situazioni. È chiaro che non è che possiamo, ripeto, stravolgere l'organico che abbiamo, però alcune situazioni possono essere sicuramente sovvertite, e poi dipende sempre da quello che mi fai vedere in campo. Noi dobbiamo però pensare a quello che è il bene del termo e della scuola del termo, quindi i giocatori questo lo sanno e per uscire da questa situazione il prima possibile dobbiamo agire tutti allo stesso modo, dobbiamo avere grande lealtà e dobbiamo vivere la competizione in maniera leale, altrimenti le situazioni diventano sempre più difficili. Noi in questo momento, ripeto, dobbiamo dare continuità a quello che è stata la vittoria, e poi in Coppa Italia, anche se affrontiamo una squadra comunque sia competitiva come il Siena, che credo che abbia un organico importante. Adesso vediamo anche quelle che saranno le aspettative del Siena, ma la Coppa Italia più vai avanti, più sicuramente ti dà stimoli. Poi penseremo alla parte di Reggio Emilia, dove andiamo ad affrontare una squadra sicuramente con un grande organico e che in casa ha fatto 6 vittori e un pareggio, quindi sarà una partita difficile, ma non partiamo sicuramente battuti e cercheremo di dare grande energia e di dare prosegua al risultato di sabato con l'Ancona. E passiamo al basket, al culmine di una giornata decisamente storta, la Globo Info Service Campli perde l'imbattibilità in campionato e subisce un passivo pesante a Porto Sant'Elpidio 85-56 il finale. Andrea Costantini. La Globo Info Service Campli perde la sua imbattibilità e lo fa nella maniera più fragorosa e inaspettata possibile. Il quintetto di coach Millina esce dalla trasferta sul parquet della Malloni Porto Sant'Elpidio con un passivo molto pesante di meno 29-85-56. Decisamente una domenica no per i farnesi, mai in partita ed estremamente imprecisi in attacco come dimostra la percentuale dal campo da 2, 39% per via di un 14 su 36 e soprattutto il dato della lunga distanza, 3 su 23, 13%. Numeri generati da una serata storta al tiro ma anche dalla buona interpretazione difensiva del quintetto Elpidiense sceso in campo con la giusta rabbia poiché reduce da due sconfitte consecutive. Di tutt'altro tenore le percentuali della Malloni, 54% da 2 e 43% da 3 che si sono tradotte in un primo quarto da 27 a 16 e in un secondo da 22 a 15. All'intervallo lungo si va sul 49 a 31, un meno 18 che è una montagna troppo alta da scalare per la Globo Info Service che nel terzo quarto non riesce a reagire e anzi nell'ultima frazione Porto Sant'Elpidio prende il largo e chiude sull'85-56. Per i farnesi doppia cifra per Petrucci, 15 con 8 su 9 liberi, Gatti 15 ma con 4 su 12 dal campo e 12 di Serafini con 5 su 12. Tra i marchigiani in 5 vanno in doppia cifra, spiccano i 18 di Cacace e i 17 di Cernivani. Sotto le plance Torresi, Arpiona 12 rimbalzi. Si ricompatta così l'alta classifica del Girone D perché con Campli perde l'imbattibilità anche Bisceglie che crolla a Matera. In vetta Pugliesi agganciati da Monte Granaro mentre la Globo Info Service viene appaiata da Sansevero. In attesa del recupero con Senigallia che può valere potenzialmente il primato in coabitazione, per la squadra di Millina è lecito attendersi una gara di riscatto quando domenica prossima al Pala Borgognoni ci sarà il derby con la Weir Ortona. Presentata a Pescara la nuova stagione della società pescarese di triathlon The Hurricane Team che vede tra le sue fila atleti di spicco. Il servizio. Vengono presentati i nuovi programmi della vostra polisportiva parte una stagione davvero densa di impegni. Polisportiva The Hurricane si tratta di sport quindi sport in generale è un assoluto nuoto abbiamo il settore nuoto e il settore triathlon stiamo cercando di ampliarlo anche nell'atletica e nei prossimi anni anche nel ciclismo quindi cerchiamo di sviluppare di far crescere i ragazzi giovani sia nel nuoto che nel triathlon e portarli ad avere strutture adeguate e allenatori adeguati per dar loro la possibilità di crescere e di avere anche un futuro all'interno del loro sport. Tu sei un po' la punta di diamante in campo maschile di questa polisportiva. Nelle ultime gare ho puntato soprattutto sulla media distanza e sulla media distanza sono riuscito a raggiungere il campionato italiano della mia categoria e anche sul duotron che è un'altra specialità e sono riuscito a raggiungere il campionato italiano della mia categoria. È cominciato il nuovo quadriennio quindi insieme alla polisportiva vorrei provare la qualifica per Tokyo nel 2020 e poi ovviamente per parlare di obiettivi un po' più vicini il campionato europeo sia assoluto che under 23 come anche il campionato del mondo assoluto è under 23 e magari anche di di mantenere il titolo italiano assoluto che ho conquistato quest'anno. È emozionata e orgogliosa non solo perché sarà appunto la punta di diamante come la chiamate voi della squadra ma anche perché forse per la sua esperienza potrà trasmettere qualcosa ai ragazzi e incitarli alla vittoria. Ed è tutto per oggi grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie per l'attenzione